La concessione del più grande giacimento petrolifero offshore della Nigeria, il campo OPL 245, 500 milioni di barili di greggio stimati che l'ENI si è aggiudicata nel 2011 per 1 miliardo e 92 milioni di dollari, secondo la procura di Milano è un caso di corruzione internazionale. L'amministratore delegato di ENI, Claudio Descalzi, nominato solo la scorsa primavera dopo gli scandali sul gas algerino, è indagato insieme all'ex AD Paolo Scaroni, al direttore operazioni e tecnologie Roberto Casula, a Luigi Bisignani e all'imprenditore Gianluca Di Nardo. I pubblici ministeri Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro considerano tutta l'operazione una storia di malaffare, come se l'intero miliardo investito per la commessa fosse una tangente. ENI, insieme a Shell, ha versato il denaro della concessione direttamente al governo di Lagos, ufficialmente secondo il comunicato dell'azienda che nega gli adebiti senza intermediazioni. Un primo tentativo di compravendita, fatto attraverso mediatori, era fallito nel 2010. Il titolare del campo petrolifero OPL 245 è la società Malabu Oil & Gas, riconducibile attraverso dei prestanome all'ex ministro del petrolio Dan Etete. Etete, ministro dell'ex dittatura militare di Sanya Basha, praticamente l'aveva venduta a se stesso nel 1998 per una cifra minuscola 20 milioni di dollari. La procura milanese sospetta che i soldi pagati da ENI e Shell alle istituzioni nigeriane siano stati poi retrocessi, almeno gli 800 milioni di dollari che sono stati tracciati, proprio a Malabu, che in pratica sarebbe una società fantoccio e avrebbe girato a sua volta il denaro ad altre cinque imprese. 190 milioni sono già stati sequestrati in due tempi su conti in Svizzera e in Inghilterra su richiesta dei magistrati. 110 a Londra li rivendica un mediatore africano, Emeka Hobby, che avrebbe avuto un ruolo nell'operazione e che si sospetta abbia incontrato almeno una volta a cena il manager Descalzi a Milano. Bisignani era stato intercettato dai pubblici ministeri di Napoli che hanno girato gli atti a Milano. È già stato sentito dalle due procure e oggi nega di aver partecipato ad accordi oppreso remunerazioni dopo che sarà interessato alla prima transazione fallita nel 2010. Gli indagati in tutto sono otto. Per ora non sarebbero stati spediti inviti a comparire.